Il Factor è una giornata che si è svolta in due parti fondamentali, una prima parte di discussione tra i quattro manager di BASF parlando a 360 gradi di innovazione, innovazione di prodotto, di servizio e nelle relazioni commerciali. Ha poi concluso in grande stile Oscar Farinetti, imprenditore che ha fatto della innovazione il proprio marchio di fabbrica. Il Factor, innovazione per creare valore, è stato il contenitore creato da BASF per discutere con i propri migliori clienti del centro sud Italia riguardo all'innovazione. La pipeline prodotti di BASF è estremamente ricca, così come il portafoglio servizi. E non da meno, in linea con la nostra corporate statement, we create chemistry, noi creiamo la chimica delle relazioni, quindi anche l'importanza delle persone rimane al centro dell'innovazione. Questi tre elementi che hanno fatto di Factor una riunione di successo nel quale non sono mancate le interazioni e le discussioni costruttive che hanno portato all'identificazione di nuovi sviluppi di business. Questi tre elementi che hanno portato all'innovazione.